Clamorosa anticipazione a due giorni dall'incontro sul teatro, stroncato lastra, si torna al piano B. Anno nuovo, vecchi problemi per la politica bassanese, trattative in corso, nessun candidato sindaco. Reportage dalla Pedemontana Veneta, da casello a casello, quasi 16 euro per fare 94 chilometri. Liste d'attesa dell'Ulset, restano sospese ancora 24 mila visite per l'azienda sanitaria. Rifiuti abbandonati a Rosà, controlli in corso sulla discarica abusiva, caccia gli ecovandali. Utenti scontenti del cambio di colori nei calendari di Etra, che risponde, variazione obbligatoria. Panicova e Stagna, prende fuoco il cammino di una casa, quattro squadre di poppieri sul posto. Bimba di soli 5 anni, colpita da più virus, muore in ospedale, i funerali venerdì. Camion si ribalta in un fossato a San Giorgio delle Pertiche, paura per l'autista. Buonasera e benvenuti al TG Bassano. Apriamo questa edizione con un'anticipazione davvero clamorosa. Venerdì verrà presentato alla cittadinanza il piano, l'assetto dei vari piani per il nuovo teatro cittadino. Ma in realtà, nella relazione fatta fare dal comune a una società specializzata, l'Astra viene stroncato e si parla quasi direttamente del piano B. Vediamo. Addio Astra, spazio al piano B. E questo è riassunto in sei parole della voluminosa relazione affidata dall'amministrazione Pavan a una società di ingegneria per fare luce sul futuro teatro cittadino. La relazione è arrivata e verrà presentata al pubblico venerdì alle 17.30 in sala Chilesotti. Ma basta leggerla per mettere in fila alcune informazioni di grande peso, con un borsino che vede le azioni dell'Astra scendere in picchiata e quelle dell'area Le Piazze prendere quota. E che quota? Il piano B, proprio quello della costruzione ex novo nel Parc Le Piazze, viene presentato nel faldone con pochissimi svantaggi e porta invece molti vantaggi, non ultimo quello di poter creare da zero una struttura al passo con i tempi. Di questo progetto ci sono già anche i rendering, ovvero le rese grafiche di quello che appare come un teatro moderno e in grado di rispondere alle esigenze di Bassano e del suo territorio. Il costo? 16 milioni di euro. Questo capitolo occupa ben 34 delle 61 pagine della relazione giusto per capirci. Nel resoconto risulta un po' meno semplice la realizzazione di una nuova struttura all'interno dell'ex Santa Chiara, dove insiste già il progetto del Genius Center. A proposito, ne avete più sentito parlare voi? Qui però la faccenda è resa complessa dalla posizione e dalla logistica del piano, per non parlare del costo che ammonterebbe a 18 milioni di euro. E l'astra? La bocciatura nella relazione è netta per tanti motivi, con pochi vantaggi legati soprattutto al mantenimento di una memoria storica e di un luogo caro alla città. Per il resto, solo grane e spese, con un conto che già così lievita a 21 milioni di euro. Ecco, questo è quanto. E alla fine, gli esperti interpellati dall'amministrazione Pavan consigliano proprio la costruzione di un nuovo teatro alle piazze, ovvero il piano B. E se questo vi dice qualcosa, sì, avete proprio ragione. Era il progetto di cui vi avevamo già parlato a dicembre. Ma non si poteva dirlo subito? E soprattutto, se il progetto dovesse essere già deciso, dove si colloca la concertazione con la città sbandierata ancora una volta dall'amministrazione Pavan? Vedremo come andrà a finire anche questa vicenda, ma restiamo in tema politico, perché le coalizioni trattano per arrivare alle elezioni di maggio o giugno, quando saranno, ma per ora non c'è alcun candidato. Vediamo. Il 2024 è appena iniziato, ma già il clima elettorale è bollente a Bassano. Dall'epifania è tutto un susseguirsi di incontri e riunioni più o meno ufficiali, più o meno carbonare. La situazione al momento è questa. Il centro-destra tratta e il centro-sinistra tratta. Come trattano, però, fa la differenza. Partiamo dall'attuale maggioranza, che pare più vicina a trovare una quadra. Lega e Fratelli d'Italia sembrano prossimi all'accordo e la strada verso un candidato unico è spianata. Forza Italia sta alla finestra, anche se qualcuno a mezza voce suggerisce che l'entusiasmo verso la destra più accesa non sia proprio alle stelle. Il centro-sinistra, dicevamo, pure tratta, ma la frammentazione è dietro l'angolo. Attorno al nucleo formato da PD e Bassano Passione Comune potrebbero convergere altre forze politiche, anche se sono in molti a scommettere che alla fine ci saranno almeno cinque o sei candidati al primo turno. Entrambi gli schieramenti hanno in comune un fattore. Nessuno ha un candidato sindaco ufficiale. Tra veti incrociati e autocandidature, qui nessuno ha idea di chi comparirà nei santini di questa primavera. Mancano insomma i due attaccanti entrando in una metafora calcistica. L'attuale maggioranza, restando in tema, ha una squadra più compatta, ma una difesa un po' ballerina, se vogliamo guardare la fiducia dei cittadini verso Elena Pavan emersa nei recenti sondaggi. Ma agli avversari manca proprio quell'attaccante in grado di fare gol da solo, ovvero di convogliare il gradimento politico e della cittadinanza. Ci sarebbe l'ex vice sindaco Roberto Marin che ha aperto le porte con l'unica preclusione della sindaca e che resta però al momento svincolato. In Soldoni, il centrocampo è l'area più affollata, anzi diciamo pure che il centro, uscendo dalla metafora sportiva, è l'area più affollata. E sono in molti che si fanno l'occhiolino dalle opposte barricate per vedere se si riesce a fare una grande coalizione moderata. Avanti al centro, contro gli opposti estremismi, diceva un tale tanti anni fa. Ma siccome tutto torna prima o poi, ci sta anche che sia di nuovo d'attualità questa voce. Almeno fino al prossimo ribaltone. E ora andiamo a vedere la nuova strada pedemontana Veneta completata da casello a casello. L'abbiamo provata, ci sono delle sorprese. Inizia il nostro viaggio lungo la pedemontana Veneta. Siamo al casello di Montecchio Maggiore. Andremo a percorrere tutti e 94 i chilometri che collegano Montecchio, quindi provincia di Vicenza, a Spresiano, provincia di Treviso. Per la precisione, 94 chilometri di viabilità principale, cui se ne aggiungono 68 di viabilità secondaria, tra innesti e accessi in entrate e uscita, lungo un bacino che va a interessare 114 comuni. 37 dei quali direttamente toccati dal tracciato, 22 nella provincia di Vicenza, 14 nella provincia di Treviso. Siamo partiti esattamente alle 11.09. Andremo così a vedere il flusso dei veicoli che attraversano l'infrastruttura. Andremo a considerare i tempi e soprattutto i costi di percorrenza di tutti questi 94 chilometri di Pedemontana Veneta. Ricordo che la velocità massima consentita lungo l'SPV è 110 chilometri all'ora. Sono le 11.39. Abbiamo raggiunto quello che può essere definito il punto intermedio di questi 94 chilometri dell'SPV. Siamo all'uscita Bassano-Est-Rosà. Ci abbiamo impiegato esattamente 30 minuti per arrivare fino a Bassano, partendo da Montecchio Maggiore. Adesso noi risaliamo e vediamo di raggiungere il termine, il punto terminale dell'SPV di questi 94 chilometri a Spresiano. Usciamo assieme, Spresiano-Villorba, eccoci qua. 15,70 euro la percorrenza da Montecchio Maggiore a Spresiano. 94 chilometri, si diceva, di tratta autostradale, 15,70 euro, non sono pochi. Inutile dire che l'SPV sia comodissima, questo è innegabile. Neanche un'ora si percorre il tratto Montecchio Maggiore, Spresiano-Villorba. Peccato per il costo, ripetiamo, quei 15,70 euro vanno a pesare e non poco sulle tasche di chi la percorre. Torneremo a parlare di questa infrastruttura nelle prossime edizioni della nostra informazione. Adesso parliamo invece delle liste d'attesa dell'U7. Le proteste riversate quotidianamente sugli uffici in relazioni con il pubblico dell'azienda sanitaria da utenti che lamentano liste d'attesa troppo lunghe e una gestione difficoltosa delle prenotazioni è uno dei motivi che continua a creare preoccupazione e disagio. Nell'U7 restano in galleggiamento e quindi in attesa oltre 24.000 visite. Un numero che spaventa considerando la carenza di medici e di personale e l'impoverimento di alcuni reparti. Tuttavia la percezione di questo numero negli utenti, vista le segnalazioni e la generale insofferenza della sanità veneta, è ancora più alto. Nelle dichiarazioni l'obiettivo dell'azienda sanitaria, in virtù anche dei nuovi fondi in arrivo, e di procedere velocemente alla riduzione delle liste d'attesa, ma il problema continua a penalizzare chi soffre. E l'U7 che cosa sta facendo al riguardo di concreto? Una risposta la dà il direttore generale Carlo Bramezza, che parla di un progetto di smaltimento delle visite in accordo con la Regione Veneto. E grazie anche all'apporto che ci hanno dato le strutture private accreditate, convenzionate con l'U7. Tutto questo nonostante, in base alle stesse dichiarazioni del direttore generale, uno sforzo operativo di medici e infermieri costante, a cui viene ancora una volta chiesto di sacrificarsi. Attraverso degli orari aggiuntivi che ha fatto il nostro personale, medico ed infermieristico, con l'apertura alla sera, il sabato, la domenica, facendo anche giornate di recupero straordinarie. Le domande a questo punto su come e quando recuperare le oltre 24 mila visite in attesa restano tante. Ieri vi avevamo mostrato le immagini di una vera e propria discarica abusiva nelle campagne di Rosà. Siamo tornati, siamo andati a parlare con il sindaco, ci sono delle novità. Ci troviamo tra il centro della frazione di Sant'Anna e la zona industriale di località prese. Come potete vedere alle mie spalle, gli ecovandali hanno abbandonato bidoni, latte di vernice, rifiuti probabilmente provenienti da un cantiere edile. Naturalmente adesso è caccia ai responsabili. Chi è abbandonato qui ha abbandonato un carico importante di rifiuti, quindi sicuramente è andato con un mezzo, con un camion, con un mezzo attrezzato di notte, però i privati si sono adoperati per andare a denunciare l'evento e soprattutto attraverso le telecamere della zona industriale stanno cercando attraverso i carabinieri di risalire a chi è effettuato il danno, il reato. Perché di reato si tratta e gli ecovandali, una volta identificati, dovranno rispondere di un gesto tanto odioso, illegale e incivile. La cosa che ci rammarica davvero è che ancora ci siano delle persone che riescano a fare questo quando ci sono tutti i modi per raccogliere i rifiuti e per smaltirli anche facendo la raccolta differenziata. Quindi un abbandono di questo tipo è davvero un reato grave, è un atto grave nei confronti del nostro territorio. Un atto grave non c'è che dire che preoccupa i tanti cittadini che si sono rivolti anche alla nostra redazione per denunciare la situazione di degrado. Ora il materiale scaricato sarà controllato sempre nel tentativo di recuperare qualche informazione in più che porti all'identificazione dei responsabili. Toccherà poi al proprietario dell'area sobbarcarsi le spese per ripulire, danni su danni insomma, perché smaltire tutti questi rifiuti certamente non costerà poco. E intanto la lotta agli ecovandali da parte del comune di Rosà non si ferma. Tramite un'associazione, una convenzione che è in essere, ogni volta che rinveniamo dei rifiuti abbandonati noi andiamo a controllare, a vagliare i rifiuti per provare a risalire a chi ha effettuato l'abbandono e sanzionarli di conseguenza. E anche voi potete segnalare situazioni di degrado, abbandono di rifiuti, cose che non vanno assolutamente bene mandando un whatsapp, una foto, un video al 340-321-8379 o via mail a redazione chioccio, lareteveneta.it.it Ce ne occuperemo come sempre, la porteremo all'attenzione di chi di dovere. A proposito di pattume, c'è un cambiamento nei calendari dietro che non è piaciuto agli utenti. La rivoluzione annunciata dei colori della raccolta rifiuti fa storcere il naso agli utenti. A scontentare molte persone, infatti, la variazione nelle colorazioni delle tipologie di rifiuti da esporre come riportato nei calendari consegnati nei giorni scorsi a Bassano ed intorni. Una premessa è d'obbligo. Le modifiche erano state preannunciate con varie comunicazioni dalla Multi Utility che ha dovuto adeguarsi alle nuove norme valide su tutto il territorio nazionale. E allora via alla sarabanda di colori, ecco che cosa cambia. Il vecchio ordinamento prevedeva che il secco fosse segnato in grigio, carta e cartone in giallo, plastica e metalli in azzurro, vetro in blu e umido in marrone. Oggi, invece, la carta e il cartone vanno in blu, plastica e metalli in giallo, verde e il vetro. Restano invariati secco e umido, rispettivamente in grigio e marrone. Il problema, come ci è stato segnalato da molti telespettatori, è che era ormai il colore a guidare il conferimento delle varie tipologie di rifiuti e non la scritta minuscola nel calendario. Ora, invece, ci vorrà un po' di tempo per abituarsi ai nuovi colori, complice anche alcune variazioni nelle giornate che hanno causato all'inizio dell'anno qualche mattinata di caos nei comuni serviti da Etra. Ma tant'è e poi non sono previsti altri cambiamenti in futuro. Passiamo alla cronaca, andiamo subito in Valbrenta per un incendio. Tanta paura nel primo pomeriggio di oggi a Valstania di Valbrenta per una canna fumaria che ha preso fuoco in un'abitazione di Riva Garibaldi, in pieno centro paese. In un primo momento si è temuto che le fiamme avessero lambito l'intera abitazione, tanto che i vigili del fuoco di Bassano sono intervenuti con ben quattro automezzi. Fortunatamente sono riusciti a domare tempestivamente il rogo, lavorando per un paio d'ore prima che lo stabile venisse intaccato. Arriva il freddo e Marostica entra subito in azione. Il freddo è arrivato ma non ha trovato impreparata l'amministrazione di Marostica. Alle prime visaglie del crollo termico che ha portato la temperatura sotto lo zero sulle colline Marosticensi e sulla spalla dell'altopiano sono usciti i mezzi spargi sale per mettere in sicurezza la rete stradale, con particolare attenzione per le zone più umide e le frazioni. Il gruppo di intervento è già stato messo in preallerta per la serata di venerdì quando le condizioni potrebbero portare a gelate diffuse su tutto il territorio. Grande emozione oggi a Marchesane dove è arrivato il figlio di Giorgio Perlasca, Franco, che si è recato nella frazione dove ha incontrato gli studenti. A scuola è davanti alla targa dedicata alla memoria del padre che durante la seconda guerra mondiale ha salvato oltre 5.000 ebrei ungheresi fingendosi un diplomatico spagnolo. E ora passiamo allo sport. 50 ragazze e ragazzi del Bassano Hockey 1954 hanno partecipato al camp Notte Magica con i pattini organizzato il 27-28 dicembre. In questi due giorni i ragazzi del settore giovanile del club hanno alternato allenamenti e giochi mangiando e dormendo una notte all'interno del palazzetto con i loro allenatori. Il camp si è concluso con un allenamento fatto insieme alla prima squadra e con una cena alla quale erano presenti tutti i ragazzi, le loro famiglie, i giocatori della prima squadra e i dirigenti con una partecipazione complessiva di oltre 150 persone. Altra bella notizia, il fatto che dopo oltre 15 anni è ritornata una squadra femminile composta interamente da ragazzine under 13 che parteciperà al campionato nazionale. Tutti a spazio e noccia, però c'è ancora questa e a tutti. Vediamo adesso le altre notizie dal territorio. È attivo a Possagno lo sportello lavoro per tutti i residenti. L'accesso ai suoi appuntamenti è aperto tutti i mercoledì pomeriggio dalle 14 alle 18 nella sede comunale. Il servizio è gratuito. Il centro studi di Bassano sarà a breve riqualificato in un nuovo tratto di via Sant'Omaso d'Aquino. In programma, opere a verde, arredo urbano e ripavimentazione lungo i confini con l'ITIS Fermi e il liceo scientifico Jacopo da Ponte. Installati attiene 5 nuovi parchimetri in via Roma, in piazza Scancerle e nel piazzale Divisione Acqui. Alla via la nuova modalità di pagamento, non solo in contanti, ma anche tramite POS. La spesa sostenuta per il loro acquisto è di 41 mila euro. Tragedia. Aveggiano è morta una bambina di 5 anni. Aveva solo 5 anni Beatrice Angela Gobbo e tanta voglia di vivere, di scoprire il mondo con il suo dolce sorriso. Beatrice però è morta il 4 gennaio nell'ospedale di Padova dopo aver lottato per alcuni giorni contro 4 virus che l'hanno colpita all'improvviso provocando un'emoragia cerebrale. Una bambina sana e solare Beatrice Angela che viveva con mamma e papà Aveggiano così la ricorda anche padre Federico Lauretta parroco della Basilica di Santa Giustina che l'ha battezzata 5 anni fa. Il ricordo che ho è quello di una bambina vivace, felice che amava la vita e proprio di recente il papà mi aveva fatto vedere anche un bellissimo video della recita, ultima recita natalizia all'asilo e la vedevi proprio una bambina carica di gioia. Veramente un'erale difficile anche perché comunque quando battezi qualcuno in qualche modo poi entra nella tua vita li vedi tutti come i tuoi figli spirituali sarà veramente un momento difficile anche per noi nonostante la fede quando una giovane vita così ci lascia. I primi sintomi della malattia si sono manifestati il giorno di Capodanno quando la piccola ha iniziato ad accusare qualche linea di febbre è salita rapidamente fino a sfiorare i 39. Poi le condizioni si sono aggravate velocemente tanto che è stata soccorsa dal 118 e ricoverate in pediatria a Padova dove si è spenta il 4 gennaio per chiarire le cause della morte della bambina è stata eseguita l'autopsia. La famiglia distrutta dal dolore voleva in un ultimo gesto di amore donare gli organi della piccola ma non è stato possibile perché compromessi dai virus. A confortare Giovanni e Francesca i genitori di Beatrice e Angela padre Federico che celebrerà i funerali venerdì mattina alle 10 nella Basilica di Santa Giustina di Padova. Il giorno del funerale che sarà venerdì mattina cercheremo di parlare della vita della bellezza della vita che per quanto corta può essere stata però Beatrice l'ha vissuta e l'ha amata fino in fondo. La famiglia non chiede fiori ma una donazione alla fondazione Salus Pueri per i progetti a favore del reparto di pediatria di Padova. Paura nell'alta a Padovana per un camion che è uscito di strada. Era appena notte intorno a Luna quando in via Ferrante a San Giorgio delle Pertiche un mezzo pesante si è ribaltato. A causare l'incidente è probabilmente un'errata manovra dell'autista che ha imboccato una strada interdetta ai camion. Immediati sono scattati i soccorsi. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco volontari di Borgo Ricco che hanno riportato il mezzo pesante sulla sede stradale illeso l'autista del camion. Quest'anno sono arrivati davvero tantissimi presepi per la nostra rubrica. Vediamone alcuni. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.